Ciao lettori elettrici di MamaStyle e benvenuti in un nuovo video! La crema caffè è uno dei dolci più buoni dell'estate, è semplice da preparare, facile e super economico e soprattutto gustosa. Le versioni sono diverse, ovviamente quelle del bar e quelle che prepariamo noi in casa. Oggi invece andremo a preparare una crema caffè che avrà pochissimi grassi e che sarà freschissima. Per realizzarla abbiamo bisogno di... Inizia mettendo in una ciotola alta il caffè solubile e lo zucchero. Aziona le fruste elettriche iniziando a mescolare il tutto. La scelta dello zucchero è facoltativa, possiamo utilizzare quello a velo oppure semolato, a voi la scelta. Aggiungi l'acqua iriacciata che hai messo in freezer precedentemente per circa 20 minuti e inizia a montare sempre con le fruste per circa 8-10 minuti. In questo modo avrai una crema densa. Puoi decidere tu quando spegnere il tutto creando una crema densa al punto giusto che desideri. Aggiungi l'acqua. Adesso prendi una tazzina, decora con del topping al cioccolato e versa all'interno la crema di caffè appena fatta. Ovviamente affinché possa mantenere la cremosità appena creata, dobbiamo berla o mangiarla subito. senza aspettare troppo tempo perché potrebbe sciogliersi. Come sempre, se ti va, lascia un like e iscriviti al nostro canale. come sempre, se ti va. Come sempre, se ti va.